Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione web della città, buon verdi 13 gennaio, giornata di sole anche quella di oggi qui a Torino, nonostante le temperature si siano un po' abbassate, tra poco vedremo la previsione meteo per la giornata di oggi e soprattutto per il weekend. Prima però diamo un'occhiata alla viabilità cominciando proprio dalla giornata di oggi, vi segnaliamo un divieto di transito in via Modena fino alle 18 di questa sera nel tratto compreso tra via Cagliari e via Catania. Dando un'occhiata alla viabilità del weekend un'altra segnalazione riguarda un divieto di transito che ci sarà dalle 7.30 del mattino alle 19.30 in via Mazzini nel tratto tra via della Rocca e Corso Cairoli per via di alcuni lavori edili. Sempre nella giornata di domani dalle 10 alle 18 avremo dei lavori edili anche in via Bellezza numero 20 che quindi causeranno dei problemi alla circolazione e anche in Corso Siccardi all'angolo, nel tratto compreso, scusate, tra via Bertola e via Cernaia, anche qui si tratta di lavori edili. Nella giornata di domenica l'ultima segnalazione che è quella relativa al divieto di transito in Corso Palestro nel tratto tra via Bertola e via Cernaia nell'orario compreso tra le 15 e le 19. Passando a vedere la situazione del tempo, dicevamo che abbiamo questa mattina in città una bella giornata, abbiamo del sole, temperature ancora di poco vicine allo zero che si stanno alzando grazie all'arrivo del sole, umidità ancora molto alta, siamo sopra l'80%. Per la giornata di oggi dobbiamo presupporre che ci barca meneremo tra una condizione di soleggiato e qualche nube che dovrebbe affacciarsi nel cielo della città, temperature massime che nelle ore centrali del pomeriggio arriveranno intorno ai 9 gradi. Attenzione però a partire dalla serata, intorno alle 20 potrebbe depositarsi in città una fita coltre di nebbia che dovrebbe caratterizzare poi anche tutta la nottata con momenti di visibilità anche scarsa, quindi ci va prudenza se vi mettete alla guida. Dando un'occhiata al weekend, a cosa ci aspetta per il fine settimana, nella giornata di sabato avremo quindi questa condizione di nebbia e foschia almeno fino alle ore centrali della mattinata per poi avere un cielo sereno con il sollevarsi della nebbia, temperature massime in discesa intorno ai 7 gradi circa. Chiudiamo con la giornata di domenica, anche qui nebbia prevista nella prima parte della giornata, temperature che scenderanno ulteriormente, nella notte tra sabato e domenica andremo di circa 3 gradi sotto lo zero e poi domenica un bel cielo sereno con qualche nube nel corso del pomeriggio, ma temperature intorno ai 4 gradi per quanto riguarda i valori massimi. Spostiamoci adesso sulla prima pagina del sito della città, andiamo a vedere due notizie che abbiamo selezionato questa mattina per voi tra quelle che sono pubblicate in prima pagina. La prima riguarda la ripresa delle consulenze gratuite da parte dei commercialisti, soprattutto nell'ambito delle attività delle informazioni per i giovani in associazione di impresa giovani. Lunedì 16 gennaio alle ore 15 verranno riaperte fino ad esaurimento posti le prenotazioni per queste consulenze gratuite nella giornata del 26 gennaio, di giovedì 26 gennaio. Vi ricordo che il servizio è rivolto ai giovani fino ai 35 anni, per prenotarvi allora ricordate lunedì sul sito di Informa Giovani. L'altra notizia invece riguarda sempre i giovani, ma scendiamo un po' di età perché Pasquindici, la conoscete ormai è un'iniziativa che c'è da molti anni in città, riservata a chi compie 15 anni nell'anno solare, in questo caso nel 2012, una serie di sconti, un carnet con tutta una serie di agevolazioni, saranno in distribuzione a partire dal 23 gennaio nei comuni della provincia che aderiscono a Pasquindici qui a Torino. Si possono trovare nelle circoscrizioni sul sito collegato dalla notizia tutte quante le informazioni. Chiudiamo con la situazione del traffico, con le telecamere D5T, qui siamo all'altezza del Ponte Isabella in Corso Moncalieri, la situazione la vedete, è tutto sommato abbastanza tranquilla. Spostandoci con le nostre telecamere all'area del incrocio del Martinetto, nella zona ovest della città, anche qui tutto sembra scorrere abbastanza tranquillamente. Andiamo a vedere poi il rondò della Forca in direzione est sul Corso Regina Margherita, come vedete sul lato destro molto libera la circolazione verso il sottopasso di Porta Palazzo, sul lato sinistro invece abbiamo un po' di coda per la svolta a sinistra verso Piazza Statuto. E chiudiamo con la situazione dietro la stazione di Porta Nuova, Corso Turati, Angolo, Corso Sommetier, qui abbiamo un po' di traffico rispetto alle altre telecamere di questa mattina. Bene, è tutto anche per questa mattina, grazie allora per averci seguito oggi e durante il corso della settimana, io ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda e l'appuntamento con tutti voi a lunedì mattina per la ripresa della settimana, vi auguro ovviamente una buona giornata. Grazie a tutti.